La quarta è stata la più complicata, numeri alla mano, ma ciò che conta è che il belluno volley a Brugherio abbia firmato un poker di vittorie consecutive, che diventano 6 su 7 se allarghiamo lo sguardo all'intero girone di ritorno. Certo in Lombardia l'auspicio era portare via il bottino pieno, a ogni modo i rinoceronti sono stati bravi nel girare a proprio favore il quinto set, nonostante due volti diavoli rosa fossero riusciti a reaguantare gli ospiti. 21-25, 25-23, 18-25, 25-22 e 12-15 parziali, che significano il tredicesimo successo stagionale. A livello individuale, oltre alle prestazioni da doppia cifra in termini di punti di Bisi, Bucco e Martinez, è prezioso il contributo di chi è entrato a partita in corso, come il centrale Alessandro Stufano, che sigla 5 punti con 3 muri. Il level 1 di coach Gianluca Colussi rimane così sul gradino più basso del podio della classifica di E3 maschile. Ha due lunghezze di vantaggio sulla pallavolo motta, che è la più diretta fra le inseguitrici. Credo che l'atteggiamento ormai sia da un po' di partite che è quello giusto, non lo dico per schermanzia, ma credo che sia la strada giusta, un atteggiamento positivo, combattivo, volitivo e questo sicuramente ci fa giocare poi tutte le partite. A volte riesce a giocare un po' meglio, a volte un po' peggio, dipende anche poi dalla porta dell'avversario. Oggi sicuramente l'atteggiamento è stato positivo, abbiamo combattuto praticamente tutti i set, c'è un po' di rammarico per il secondo set perché eravamo avanti dei 3-21, o anche il quarto, forse potevamo prendere il largo a metà set, non ce l'abbiamo fatta. Molto bravi poi a ragione del Deglè che è lasciato il set. Domenica alle ore 19 sarà scontro diretto alla Spessarena contro i piemontesi del Savigliano, battuti ieri proprio da motta e alle spalle di tre punti.